È risultato vincente l'abbinamento tra cultura e solidarietà annato in scena ieri sera al teatro Samonà di Sciacca, dove la commedia La Nana ha registrato il tutto esaurito. Una rappresentazione che ha visto protagonista la compagnia teatrale della proloco L'Araba Fenicia di Sambuca di Sicilia, con un cast di circa 30 attori che hanno portato in scena un'opera tratta dall'omonimo romanzo di Emanuele Navarro della Miraglia, con adattamento teatrale di Enzo Randazzo e Nino Bellitto, aiuto regia, le insegnanti Gisella Mondino e Daniela Rizzuto. L'incasso della serata sarà devoluto al Covopro, il coordinamento delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, per sostenere le attività della Casa del Volontariato di Sciacca, struttura realizzata all'interno di un bene confiscato alla criminalità. Azzeccata la scelta del romanzo di Emanuele Navarro della Miraglia, che ha iniziato il verismo in Italia, dando una svolta rivoluzionaria al tema dell'onore e dell'amore in Sicilia. Il romanzo La Nana è stato il primo romanzo verista della letteratura italiana, ed è considerato anche il primo manifesto contro il femminicidio. La storia raccontata nell'opera si svolge a Villa Maura, piccolo paese dell'Agrigentino, teatro del dramma d'amore di Rosaria Passalacqua, che invaghitasi di Don Pietro Giggelli, preferisce le sue attenzioni a quelle di Rosolino, onesto lavoratore dei campi desideroso di sposarla. Ma Pietro Giggelli è promesso a Grazia Fragalà, figlia di uno dei più ricchi proprietari di Villa Maura, così, dopo aver sedotto Rosaria, finisce con l'abbandonarla per sposare Grazia. Rosolino, benché a conoscenza dei rapporti intercorsi tra Pietro e Rosaria, superando i pregiudizi della morale tradizionale, torna ad offrire il suo amore alla donna e la salva dallo scandalo sposandola. Un'ottima performance è quella del team della Nana, di cui il pubblico del Samonà ha molto apprezzato impegno interpretativo e qualità della recitazione. Spettacolo che ad un certo punto ha anche coinvolto i ragazzi seguiti dalle varie associazioni di volontariato, che da spettatori sono diventati anche loro attori sul palcoscenico. Oggi è il Covopro a ringraziare la compagnia teatrale, l'amministrazione comunale di Sciacca che ha messo a disposizione il Samonà e quanti hanno assistito alla commedia, sostenendo con la loro presenza la casa del volontariato. E sempre oggi c'è anche la soddisfazione di chi ha curato la regia dello spettacolo, lo scrittore Sambucè Senso Randazzo, che ringrazia quanti hanno reso possibile la riuscita della serata.